Buongiorno a tutti, benvenuti a questa conferenza pubblica. Io sono da pochi giorni il direttore del Dipartimento di Fisica e Astronomia e sto già scoprendo i benefici di essere direttore di Fisica e Astronomia perché un giorno c'è una scoperta in Fisica, un giorno dopo quella in Astronomia e quindi siamo sempre sulle prime pagine. Appunto in queste due settimane particolarmente abbiamo vari eventi che sono molto collegati alle nostre attività di ricerca. Avete visto il premio Nobel dato martedì scorso sulla cosmologia e sugli Esoplanet, attività di ricerca nel quale il nostro Dipartimento gioca un ruolo di primo piano. Oggi abbiamo il piacere di ospitare il professor Rezzola che parlerà di questa prima immagine del buco nero che tanto scalpore ha fatto soprattutto nei mesi scorsi anche sugli organi di informazione di massa. La settimana prossima avremo la giornata di lancio del nostro progetto di eccellenza. Il Dipartimento di Fisica ha vinto un progetto di eccellenza finanziato dal Ministero proprio sulla fisica dell'universo. Ci sarà quindi un altro evento il giorno 17 al San Gaetano. Ok, detto questo sono contento di vedervi così numerosi. Appunto questo testimonia quanto queste attività oltre a essere ovviamente fondamentali per noi anche riescono a interessare molte persone e soprattutto molti giovani. Ringrazio l'INAF, Osservatorio Astronomico di Padova, per aver organizzato in particolare l'evento di oggi e cedo la parola al professor Ragazzoni che è direttore appunto dell'INAF Osservatorio Astronomico che introdurrà lo speaker. Grazie Flavio, solo due parole. Ho l'onore di presentarvi Luciano Rezzola. Luciano Rezzola è italianissimo, prima gli ho dovuto chiedere esattamente perché dal curriculum non si capiva bene Trieste, Milano, Bari, una persona diciamo che, come ho detto, si sente anche molto triestino. Comunque ha lavorato, sei laureato in fisica a Trieste, ha lavorato in Illinois, in Stati Uniti, è stato direttore anche al centro di calcolo della Sissa di Trieste, del Scuolo Internazionale di Studi Superiore e Avanzati per poi, diciamo, trasferirsi in Germania dove è direttore dell'istituto di astrofisica teorica di Francoforte sul meno. E oggi ci parla dell'immagine del buco nero, grazie Luciano a te. Bene, grazie a tutti per essere qui, appunto sono italiano e non mi sento un cervello in fuga, questa è una cosa che è importante. Lo scienziato, così come l'artista, ha bisogno di muoversi, non soltanto perché magari in altri posti ha opzioni maggiori o finanziamenti maggiori, ma anche perché è una maniera per maturare, per crescere, quindi essere uno scienziato all'estero non vuol dire dimenticare le proprie origini e quindi è con grande piacere che sono qui a parlare con una lingua che conosco meglio di altre. L'argomento di cui parlerò è appunto la prima immagine di un buco nero e cercherò di convincervi che quello che abbiamo fatto, quello che abbiamo osservato, è appunto un buco nero. Tuttavia, visto che questa è una lezione pubblica, cercherò di risparmiarvi i dettagli per concentrarmi sui concetti e magari elucidare alcune delle condizioni che voi avete che sono magari un po' non molto a fuoco e cercare di capire cos'è un buco nero. Quindi, prima ancora di parlare di buco nero, cercherò di parlare di gravità, perché un buco nero, altro non esso, è una manifestazione, forse la più estrema della gravità e per questo avrò bisogno di contrastare la visione della gravità, che è quella di Newton, proposta nel 1700, con la visione della gravità che sta poi proposta da Einstein, che sono una che sfocia nell'altra, ma che sono fondamentalmente diverse. Parlerò di cosa sono i buchi neri, ovviamente tutto quanto, voi lo sapete, ma io cercherò di darvi una diversa interpretazione, come sia possibile vedere un buco nero, che per definizione non è visibile. E poi, siccome essere scienziati significa fondamentalmente essere scettici o comunque nutrire dei dubbi, cercherò di nutrire il dubbio di siamo sicuri che quello che ho scritto all'inizio è vero, così che veramente abbiamo visto un buco nero. Quindi cercherò di convincervi che ci stiamo ponendo questa domanda e che abbiamo delle risposte parziali. Allora, cominciamo dicendo che voglio che mi interrompiate in ogni momento, questa deve essere vista come, sebbene questa sia un'aula di lezione, questa vuole essere più che altro una chiacchierata, quindi se ci sono delle domande, se c'è qualcosa che non è chiaro, fermatemi e cercherò di chiarirlo prima di andare avanti. Allora, la gravità. Non so se ci avete mai pensato, però è una cosa che a me ha affascinato parecchio. La gravità è l'unica forza della natura di cui abbiamo una nozione istintiva. Non so se conoscete questo istinto, si chiama l'istinto di Moro, è mostrato in questa immagine qua, ed è l'istinto che viene, che voi potete testare, infatti è uno dei test che viene fatto, dei bambini appena nati, quando dico appena nati significa veramente pochi secondi dopo che sono stati partoriti. Questo istinto fa sì che se voi mettete un bambino in caduta libera in un campo gravitazionale, vedete che il bambino reagisce, reagisce in questa maniera, cerca ossia di aggrapparsi a qualsiasi cosa che riesce a trovare. Ecco, dove pensate che un bambino appena partorito non ha nessuna cognizione di niente, eppure ha la capacità di reagire ad una forza, la forza di gravità. La forza di gravità è anche l'unica forza di cui voi siete consapevoli in questo momento, perché sapete di essere seduti, mentre non sapete, ad esempio, qual è la forza elettrodebole o forte che comunque state sperimentando. Quindi la forza di gravità è l'unica forza di cui abbiamo una nozione istintiva. Non solo. Tutti quanti sappiamo cosa succede a questa persona, d'accordo? E questo perché abbiamo anche nel nostro cervello la capacità di integrare, di calcolare la reazione che la caduta libera produce sugli oggetti, in particolare su di noi quando cadiamo in quella maniera lì. Quindi il nostro cervello, in qualche maniera, riesce a interagire con questa forza e a fare un conto che altrimenti sarebbe abbastanza complicato. Scendere le scale, che sembra così banale a noi, o salirle, è in realtà un compito estremamente complesso, per esempio, per un automa. Perché ci sono una serie di fattori che dovete tener conto e che invece noi facciamo praticamente in maniera istintiva. E c'è un'ultima nozione, che è quella immaginativa, se volete. Questo film, non so se l'avete visto, Gravity, parla soltanto di gravità, d'accordo? È fatto in maniera molto semplice, eppure ha battuto tutti i record d'incasso nel primo fine settimana in cui è stato mostrato. E questo, secondo me, è perché abbiamo questa nozione immaginativa della gravità. Non so quanti di voi, io sicuramente, spesso mi immagino a sentirmi in assenza di gravità. Sarebbe una di quelle cose che mi piacerebbe provare un giorno. Bene, quindi la gravità è qualcosa che ha a che fare con noi, di cui fa parte la nostra vita, ma anche a livello della natura, dell'universo, è la forza che probabilmente è la più importante. Questo è il risultato di una simulazione numerica, di formazione di struttura a grande scala, ossia come, pensiamo, l'universo sia fatto. E all'universo, in prima approssimazione, è uniforme, isotropo, però se andate a guardare più in dettaglio, almeno su scale più piccole, vedete che ci sono delle strutture precise. Queste strutture sono filamentari, alle intersezioni di questi filamenti ci sono degli ammassi, dove delle galassie si creano, e all'interno di queste galassie poi ci sono altre galassie, e all'interno di queste galassie ci sono poi delle stelle. Ecco, su queste scale, l'unica forza che è veramente importante è la gravità. Quindi, se ci spostiamo al di fuori del nostro pianeta, la forza più importante di cui dovete tener conto è la forza di gravità. Ecco, regola la formazione e l'evoluzione dell'universo stesso. E voi potrete pensare che è qualcosa che conosciamo bene. In realtà è la forza che si dà più filo da torcere, perché ci sono degli aspetti della gravità che ancora non conosciamo bene. Sia a grande scala, dove ci sono oggetti come la materia oscura, l'energia oscura, di cui non abbiamo una comprensione precisa, che su scale più piccole, dove appunto i buchi neri rappresentano una sfida alla nostra comprensione di questa forza qui. Come è nata la gravità? Quali sono i rappresentanti più importanti di questa teoria? La prima è sicuramente Newton, nel 1679, propone la sua teoria della gravità. Lui dice in maniera molto semplice che la gravità è una forza, una forza istantanea, che è proporzionale alle masse in gioco, quindi c'è una massa grande e una massa piccola, la Terra e la Luna. Questa forza è proporzionale al prodotto di queste due masse ed è inversamente proporzionale al quadrato della distanza. D'accordo? Quindi più grandi sono le masse, più è forte questa attrazione, più lontane sono queste masse, meno forte è questa attrazione. C'è un problema con questo concetto, il problema più grave è questa idea della forza istantanea. Adesso non riusciamo a conciliare questo concetto con quello che noi capiamo della fisica, in cui richiediamo invece che qualsiasi fenomeno abbia una velocità di propagazione massima. Però con questa teoria lui riusciva a spiegare tutte le osservazioni astronomiche del suo tempo. Abbiamo dovuto aspettare delle eccezioni molto difficili da conciliare con le osservazioni all'inizio del secolo scorso per incominciare a dubitare di questa forza. Adesso questa forza va benissimo. Se volete costruire un grattacielo, usate questa forza. Non avete bisogno di conoscere la forza, l'interpretazione della gravità di Einstein. Quindi è una spiegazione, un'interpretazione della gravità che va benissimo su campi gravitazionali come quello del nostro pianeta, ossia campi gravitazionali deboli. Però l'universo ci ha insegnato che i campi gravitazionali possono essere anche estremamente forti e in questo caso questa descrizione della gravità è insufficiente. ed è per questo che nel 1915 Einstein propose la sua teoria della gravità che si chiama teoria dell'attività generale, non c'è la gravità al suo interno, però parla della gravità alla fine della storia. Quello che dice Einstein è che la gravità è la manifestazione della curvatura dello spazio-tempo e in particolare ogni massa o energia curva lo spazio-tempo, in particolare lo spazio e il tempo non differiscono e le implicazioni di questa visione sono enormi, molto complesse, e cercherò di spiegarvi. Adesso, la frase importante è questa qua e così come è scritta lì, probabilmente non vi dice niente, lo so, ed è per questo che voglio guidarvi attraverso quei concetti che sono fondamentali in questa frase, ossia gravità, curvatura, spazio-tempo, e cercare per gradi di comprendere cosa voglia dire questo in realtà. Allora, tutti voi, quando pensate ad Einstein e vi si chiede qual è l'equazione di Einstein, probabilmente pensate a questa equazione, E uguale a mc quadro. Questa equazione dice che a sinistra c'è una quantità di energia e a destra c'è una massa o volte la velocità della luce al quadrato. Questa equazione non ha niente a che fare con la gravità, infatti è stata derivata una teoria, quella della velocità speciale, che non ha niente a che fare con la gravità, però è importante per spiegare l'equivalenza, quindi se anche non capite bene cosa voglia dire, c'è un segno uguale, e dice che energia e massa sono equivalenti, a volte è un termine costante. Questo vuol dire che ogni volta che c'è una massa avete delle energie e quindi avete un potenziale di liberare questa energia. Questo è come, ad esempio, funzionano le stelle, fondamentalmente usando questa equazione qua, o come funzionano i reattori nucleari. Anche in questo caso, quello che fate, prendete un po' di questa massa, la liberate e di conseguenza avete liberato un po' di energia. Come vi dicevo, questa non è una delle equazioni di Einstein, equazioni plurale, perché le equazioni di Einstein sono quelle che descrivono la gravità. Ecco, le equazioni di Einstein sono queste qua, sono bellissime. Probabilmente non significano niente per gran parte di voi, infatti l'idea non è di spiegarvi cosa vogliono dire, però c'è un segno uguale, questo lo riusciamo a capire tutti quanti, e ancora una volta, queste equazioni stabiliscono un'equivalenza, un'uguaglianza, tra quello che sta a sinistra, che si chiama tensore di Einstein, e quello che sta a destra, che si chiama tensore energia input. Queste sono delle equazioni tensoriali, perché coinvolgono dei tensori, e sono covarianti, sono le stesse in qualsiasi sistema di coordinate. Fondamentalmente, alla fine della storia, quello che dicono è che a sinistra c'è qualcosa che ci dice delle proprietà della geometria, della curvatura, mentre a destra c'è qualcosa che ci dice della massa e dell'energia. E quindi, concettualmente, l'unica cosa di cui abbiamo bisogno adesso, è capire che c'è un legame tra energia, o massa, la stessa cosa, e curvatura, ossia geometria. Quindi, ogni volta che parliamo di massa, o di energia, dobbiamo pensare che c'è una curvatura associata. E quindi, queste equazioni dicono che la gravità che è contenuta a sinistra, in termini di geometria, è una manifestazione della presenza di una massa. Cerco di essere ancora più esplicativo. Cerchiamo di capire cos'è la curvatura dello spazio-tempo. Allora, tutti quanti abbiamo un'idea di... Immaginate un lenzuolo, d'accordo? Un lenzuolo che è privo di qualsiasi oggetto al di sopra di esso, In questo caso, potete pensare che la curvatura di questo oggetto è zero, ossia, l'oggetto è rappresentativo di uno spazio-tempo-piatto. Quindi, zero curvatura uguale spazio-tempo-piatto. Io parlo di spazio-tempo e non di spazio e tempo, perché questa è una delle lezioni più importanti dell'attività generale, che dice che lo spazio e il tempo sono la stessa cosa. E che quindi, andare a destra o sinistra, o andare nel futuro, nel passato, sono equivalenti, almeno dal punto di vista matematico, delle equazioni. Se questo è quello che avviene dove non c'è niente, in assenza di materia, se avete una materia, ad esempio una massa m, che sia essa un atomo, che sia un uomo, o che sia un pianeta, questa massa m produce una curvatura, esattamente come se prendete un oggetto sull'enzuolo e lo lasciate, questo produrrà una curvatura. Quindi, la curvatura è la conseguenza, la manifestazione, il risultato, del fatto che esista una certa concentrazione di materia, o, per la prima equazione che vi ho mostrato, di energia. Quindi, ogni volta che c'è energia, c'è una curvatura. E poi, la grandezza, la quantificazione di questa curvatura dipenderà un po' dalle proprietà di quanta, di questa massa c'è, di com'è fatta, di quanto è estesa, e così via. Ora possiamo immaginare di confrontare le due visioni di Einstein e di Newton della gravità. Allora, Newton diceva, o meglio, spiegava il moto dei pianeti in questa maniera. Avete una massa grande, il Sole, una massa piccola, la Terra, c'è una forza gravitazionale che è data da questa freccia che costringe la massa piccola a cadere dentro il Sole. E l'unica maniera in cui la massa piccola può liberarsi, evitare di fare questo, è di ruotare intorno. In quel caso si crea una nuova forza, che c'è la forza centrifuga, e il bilanciamento di queste due forze crea un equilibrio, ossia un'orbita stabile. Ed è per questo che noi non finiamo dentro il Sole come pianeta. Questo è quello che dice Newton. Einstein dice no, 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 non è così. Devi immaginare che se c'è il Sole questo crea una curvatura e la Terra non può altro che finire o seguire o muoversi in conseguenza di questa curvatura. Quindi l'unica cosa che può fare è andare al centro di questa ciotola, ossia al centro della sorgente di curvatura. se volete è un po' come una pallina in una roulette russa. No, in una roulette non c'è niente di russo questo, è una pallina in una roulette, la pallina non cade verso il centro, l'asse di rotazione che è inclinato fin tanto che ruota, fin tanto che c'è una forza centrifuga che la tiene su. Ecco, la stessa cosa potete immaginarla e la descrizione del moto orbitale della Terra intorno al Sole. La Terra cadrebbe verso il Sole ma evita di farlo fin tanto che ruota e sta al limite di questa curvatura qui. Adesso potete immaginare o potete dubitare che quello che vi sto dicendo io sia corretto ed infatti all'inizio quando Einstein propose la sua teoria la gente aveva problemi a prenderlo sul serio ma poi ci fu un esperimento che risolve molti dei dubbi e questo esperimento è mostrato in questa rappresentazione qui. Tra l'altro quest'anno è il centenario di questo esperimento e quello che lui diceva è se lo spazio-tempo è curvo questo vuol dire che gli oggetti dovranno muoversi secondo direzioni che non sono necessariamente delle linee rette. in particolare io posso immaginare di vedere qualcosa che è dietro ad un altro oggetto ad esempio una stella dietro il sole può essere in linea di principio visibile perché la stella nella teoria di Newton dovrebbe avere la sua luce dovrebbe avere questa traiettoria mentre il secondo Einstein dovrebbe avere questa traiettoria qui cioè la luce dovrebbe sentire che c'è una superficie non piatta e non appena sente questa superficie non piatta deve curvarsi e quello che fu fatto è esattamente questo fu in occasione di un eclissi ci andò a cercare la posizione di una stella e si vede che questa stella che in linea di principio doveva essere dietro il sole in realtà era visibile e questo perché appunto questa era la posizione osservata questo concetto è importante perché ci spiega quello che osserviamo regolarmente perché se questa stella può essere vista anche da questa direzione può essere vista anche da una direzione diversa e quindi in linea di principio posso vedere la stessa stella anche in più posizioni se non ci credete dovete guardare questa osservazione in cui c'è questo oggetto qui e poi ci sono questi pallini qui che rappresentano delle rappresentazioni dello stesso oggetto visti in punti diversi e questo si può fare ancora non solo con delle stelle ma anche con delle galassie o dei dei buchi di inaccrecimento dei quasa ecco questa è la stessa galassia che è vista in posizioni diverse ed è vista in posizioni diverse semplicemente perché la luce emessa attraversa un campo gravitazionale che distorce la luce e consente di avere delle immagini multiple quindi questo fenomeno si chiama fenomeno di lente gravitazionale appunto perché così come la luce ad esempio in un laboratorio qui verrebbe deflessa dalla interazione con una lente la luce viene deflessa e viene deviata in presenza di un campo gravitazionale e questo è uno strumento fantastico in astronomia perché ci consente di vedere materia lì dove la materia non emette luce ad esempio gran parte della nostra comprensione della materia oscura viene da guardare queste mappe strane in cui lo stesso oggetto viene visto in posizioni diverse adesso se è chiaro che la gravità e la curvatura sono legate e che quindi se c'è curvatura c'è gravità uno potrebbe chiedersi bene come misuriamo la curvatura questa è una domanda che faccio agli studenti che seguono il corso di relatività generale chiedo bene misurate la curvatura nell'aula ci sono delle bellissime tecniche matematiche che ci consentono di fare questo si chiama trasporto parallelo quindi si può fare matematicamente in maniera molto precisa però se vogliamo avere un'idea di come si misura la curvatura meno un'idea approssimata quello che possiamo fare è dato un oggetto di massa m e la sua dimensione r possiamo calcolare il loro rapporto m su r questo rapporto ha un nome si chiama compattezza e se voi usate le unità giuste questo è un numero puro ossia non ha unità non ha chilometri non ha secondi quindi è un numero semplice che ci consente di calcolare localmente quant'è la curvatura possiamo fare quindi l'esperimento e quello che impariamo è che maggiore questa compattezza quindi maggiore questo rapporto maggiore la curvatura bene facciamo questo per questa stanza quello che vogliamo fare è prendere la massa della terra che sappiamo essere questa il raggio della terra che è circa 6.000 km ci mettiamo davanti la costante di Newton dividiamo per due volte il quadrato della velocità della luce e otteniamo che tutte queste unità si semplifichino e otteniamo un numero puro e abbiamo 3 per 10 alla 9 ossia abbiamo 3 preceduto da 8 0 adesso chiaramente questo è un numero estremamente piccolo va bene ed è per questo che la nostra comprensione della gravità ci impedisce di comprendere il concetto di curvatura semplicemente perché non ne abbiamo mai una manifestazione tutto quello che abbiamo intorno a noi è in uno spazio tempo piatto ed è per questo che io posso usare il mio puntatore il mio puntatore è tale che se io lancio un raggio di fotoni questo raggio di fotoni si propaga in linea retta bene se questo numero è piccolo e voi siete ricercatori di curvatura potete chiedervi bene dove posso trovare una curvatura maggiore avete bisogno di un campo gravitazionale maggiore e questo potete farlo almeno nel nostro vicinato nel nostro immediato avvicinante nel sole quindi prendete la stessa formula e sostituite la massa della terra la massa del sole al raggio della terra il raggio del sole che è 700.000 km circa e quello che ottenete è 2 per 10 alla meno 6 d'accordo? ancora una volta questo numero è estremamente piccolo è più grande circa mille volte più grande di questo ma è comunque molto piccolo e questo ci insegna una lezione importante ossia che intorno a noi nelle nostre vicinanze la curvatura è inevitabilmente piccola ma anche che è estremamente difficile curvare lo spazio-tempo ci vuole una quantità di energia enorme l'universo però non ha nessun problema a curvare perché ha delle risorse enormi e infatti riesce a produrre degli oggetti come ad esempio i buchi neri o le sedi neutroni in cui la curvatura è ben più grande di due parti in un milione come facciamo a creare della curvatura? supponiamo che ok adesso l'abbiamo misurata abbiamo visto che il risultato è deludente soltanto una parte su un miliardo c'è qualche maniera di costruire o di aumentare la curvatura non in pratica ma possiamo immaginarlo attraverso un esperimento mentale quello che Einstein chiamava un gedanken experiment ossia qualcosa che potete fare con la vostra immaginazione e quindi quello che vi chiedo di fare è prendiamo la massa del sole abbiamo visto la massa più grande che abbiamo da queste parti e lo mettiamo in una pressa e questa pressa quello che fa è ridurre il suo diametro d'accordo? l'idea è quella di aumentare la compattezza perché se manteniamo m costante e diminuiamo r il rapporto m su r aumenterà e vi ho detto che aumentando m su r aumentate la gravità ok vediamo di farlo e di dimostrare in una superficie la quantità di curvatura adesso ho ristretto il sole a un raggio molto più piccolo poi vi posso dire quanto tale che la compattezza è circa 1 per 1000 vedete la superficie è ancora apparentemente piatta e so che non è piatta perché siccome ho usato anche una rappresentazione in colori so che ci sono di diversi colori e quindi al centro è leggermente più curva che i bordi dove invece è il rosso bene immaginiamo di azionare ancora la pressa e di ridurre ulteriormente il raggio del sole a circa il 10 tale che la compattezza sia il 10% adesso potete apprezzare che la curvatura è già visibile in questa superficie posso continuare in questo ho il 20% guardo ancora avanti e vedete come la curvatura man mano che gioco questo faccio questo esperimento mentale aumenta sempre di più e diventa visibile e si crea come una gola dove la curvatura è estremamente forte la curvatura potete immaginare appunto e il raggio di curvatura di questa superficie qua continuo ad andare avanti a un certo punto mi devo fermare ho ristretto il sole a una dimensione tale che non posso più creare un oggetto stabile questo limite è 0,44 e questo è il limite di compattezza per un oggetto che ha una superficie solida ma tanto questo è un esperimento mentale io posso pensare ok contraggo ancora di più bene quello che ci dice l'attività generale è che quando supero questo limite produco un buco nero quindi un buco nero è l'oggetto che ha la compattezza massima il rapporto m su r è un mezzo e la curvatura è simile a questa rappresentazione qui c'è questa gola enorme e a un certo punto c'è una superficie che viene chiamato l'orizzonte degli eventi come potete rappresentare l'orizzonte degli eventi immaginate che questa non sia una superficie matematica ma che sia una superficie dove scorre del fluido una cascata ad esempio immaginate di alimentare questa cascata dal bordo e che l'acqua vada a finire dentro questo imbuto e che voi siete in grado di muovervi o di nuotare in questo fluido che sta accadendo bene in linea di principio potete sottrarvi andare controcorrente fin tanto che siete lontano da questo limite qua una volta che siete in linea di principio potete anche risalire la corrente perché la gravità è forte la corrente è forte ma voi siete ancora più forti della corrente però nel caso di un buco nero c'è un limite e questo si chiama orizzonte degli eventi in cui non importa quanto siete bravi a nuotare non importa quanto siete muscolosi alla fine la gravità vi sarete costretti andare verso l'interno piuttosto che verso l'esterno quindi l'orizzonte degli eventi è il limite ma lì sopra del quale la gravità vince contro qualsiasi altra forza se volete chiedervi di quanto abbiamo ridotto il raggio del sole siamo partiti da 700.000 km per ottenere un buco nero dovremmo avere ristretto il sole a un chilometro e mezzo quindi estremamente piccolo possiamo fare la stessa cosa con la terra in questo caso avremmo ridotto la terra a circa un centimetro e mezzo d'accordo? quindi se siete in grado di comprimere l'intero pianeta a un centimetro e mezzo di diametro di raggio avrete prodotto un buco nero vediamo di dare un'altra definizione di buco nero che forse è più intuitiva ci sono tante maniere di definire un buco nero uno che vi ho dato è quella lì però quella è più più altra una definizione in termini di fluidi potete pensare però sempre in termini di gravità che esiste un concetto che si chiama la velocità di fuga allora guardate il mio puntatore l'ho lanciato verso l'alto lui è stato accelerato poi è decelerato si è fermato e è tornato indietro questo perché gli ho dato un certo impulso adesso provo a farlo ancora di più e ho fatto la stessa cosa tuttavia c'è una velocità tale che se supera questa velocità il puntatore non ritorna più indietro questa si chiama la velocità di fuga ed è quella che utilizziamo ad esempio per lanciare dei satelliti lontano dal nostro pianeta e questa velocità di fuga è molto semplice da questa relazione qua la radice quadrata di 2gm su r questo vuol dire che se io faccio lo stesso esperimento con la stessa forza su la luna dove il campo gravitazionale è diverso ossia dove la massa e il raggio sono diversi avrei bisogno di un impulso minore o se volete riesco a lanciare il puntatore ad altezze ben più grandi quindi quello che potete pensare è ok metto vf la velocità di fuga essere la massima possibile questa è la velocità della luce e quindi un buco nero è un oggetto che ha velocità di fuga pari alla velocità della luce e fondamentalmente questo vuol dire che se siete sulla superficie di un buco nero che non è una superficie solida è una superficie virtuale neanche la luce riesce a sfuggire se io avessi il suo puntatore e fossi esattamente sull'orizzonte tutta la luce del mio puntatore cadrebbe indietro quindi un buco nero è un oggetto tale che alla sua superficie la gravità è così forte che l'unica cosa che posso fare è entrare e non posso uscire perché la gravità mi lo impedisce allora se tutti questi concetti sono chiari come scienziati dobbiamo convincerci che questi non sono soltanto delle speculazioni matematiche ma che veramente esistono e quindi dobbiamo andare a caccia di buchi neri la maniera in cui si fa questo è una tecnica che si chiama VLBI Very Long Baseline Interferometry ossia interferometria con una linea di base molto grande ed è molto semplice fondamentalmente vi ho spiegato che i buchi neri tendono ad essere estremamente piccoli compatti li producete quando avete ridotto in dimensioni molto piccole un oggetto di massa grande questo vuol dire che sul cielo appariranno come estremamente piccoli quindi avete bisogno se volete fotografarli ad esempio avere una risoluzione la capacità di vedere dei dettagli che sia estremamente alta per calcolare la risoluzione avete bisogno di capire qual è la lunghezza d'onda alla quale volete fare la vostra misurazione e dividerla per la dimensione dell'aria con cui state ricevendo questa informazione la dimensione del telescopio in genere ecco lì non abbiamo moltissime libertà perché le frequenze o le lunghezze d'onda che riusciamo a vedere e che vengono emesse molto vicino da un buco nero sono in genere le onde radio questo perché c'è luce di tutti i tipi che viene prodotta ma in genere lunghezze d'onda maggiori vengono assorbite e quindi non arrivano fino a noi quindi onde radio in particolare le onde radio dell'ordine di 1,3 mm sono quelle che abbiamo usato nel fare queste misurazioni sono quelle che meglio di altre ci danno un'informazione sul buco nero e quello che vogliamo avere è un telescopio che è grande e idealmente vogliamo che sia il più grande possibile e in particolare vogliamo che sia grande quanto l'intero pianeta vedete come fate a costruire un telescopio così grande in realtà non lo costruite quello che fate è utilizzare diversi telescopi e metterli insieme in maniera tale da creare virtualmente un grande telescopio quindi l'evento Horizon Telescope questa collaborazione quello che ha fatto è esattamente questo ha creato un radiotelescopio virtuale che è grande quanto la Terra e che è a misura delle frequenze radio in particolare l'idea è di avere dei telescopi dei radiotelescopi uno dei quali è grandino sono 30-40 metri ma che è posizionato in diverse posizioni del pianeta e è l'idea di quelli di metterli insieme adesso per poter far questo c'è un ingrediente essenziale ossia per fare interferometria ed è questo ingrediente che dobbiamo misurare esattamente la stessa immagine da un punto di vista fisico queste onde dobbiamo catturare esattamente la stessa onda e come facciamo a garantire questo possiamo garantirlo essendo sicuri che il tempo di arrivo dell'onda è lo stesso ovunque quindi non è sufficiente soltanto fare una misurazione dell'intensità del segnale ma dobbiamo anche avere una misura molto precisa di quando il segnale è arrivato a noi ed è per questo che ognuno di questi telescopi ha oltre ad avere dei ricevitori anche degli orologi atomici estremamente precisi e quindi accanto all'intensità abbiamo anche un marcatore del tempo in questa maniera possiamo prendere il segnale che è stato per esempio prodotto in Arizona e correlarlo metterlo in correlazione col segnale che è stato preso a migliaia di chilometri alle Hawaii e in questa maniera possiamo ricostruire il segnale ed avere un telescopio che è virtualmente grande come la distanza tra l'Hawaii e l'Arizona in teoria avete bisogno soltanto di due telescopi per far questo però è molto utile averne di più e questo è perché mentre due telescopi osservano la ruota la terra ruota e questo vuol dire che dopo un po' i telescopi non saranno più in grado di vedere l'oggetto l'oggetto si sposterà sul cielo e non lo vedrete più quindi per ovviare a questo problema l'idea è di mettere tanti telescopi in maniera tale che in tandem non appena due telescopi scompaiono o meno un telescopio scompaio create una correlazione con un altro telescopio e così via in maniera tale che l'oggetto è sempre osservato e questo è esattamente quello che abbiamo fatto nell'aprile del 2017 abbiamo ossia mandato delle persone in giro per il pianeta a fare queste osservazioni siamo andati in Messico in Cile al Polo Sud alle Hawaii in Spagna in Arizona e tutti insieme allo stesso istante o quasi insomma a seconda delle posizioni del pianeta abbiamo incominciato a registrare i dati e a segnare l'orario di arrivo e quello che è successo nell'aprile del 2017 è un po' paradossale ma anche segno di buona fortuna di buona sorte perché se voi ci pensate questa è luce che arriva dopo aver viaggiato per 55 milioni di anni per arrivare a noi è una distanza di 55 milioni di anni luce ed è sufficiente che ci sono delle nuvole a 10 km sopra il telescopio ossia del vapore e acqua perché queste onde vengano assorbite e il vostro telescopio non vede niente se c'è nuvolo non si vede niente e invece guardate qui tutti i siti avevano del tempo perfetto e questo ha consentito la prima volta che ci abbiamo provato ottenere dei dati fantastici l'abbiamo provato altre volte e non siamo mai stati così fortunati quindi la prima volta che abbiamo provato siamo stati fortunati abbiamo messo quasi due anni ad analizzare questi dati e il 10 aprile di quest'anno abbiamo annunciato i nostri risultati e l'abbiamo annunciato mostrando fondamentalmente questo che vi dà un po' l'idea di quello che abbiamo fatto adesso spero che l'audio vada abbiamo guardato nel cielo in particolare nell'ammasso di Virgo e all'interno di questo ammasso che è l'ammasso di galassia c'è una galassia molto massiccia che è la galassia di M87 è una galassia che si vede anche nell'ottico e erroneamente in passato questa galassia è stata scambiata per una cometa perché se guardate esce qualcosa da questa galassia vedete c'è questo filamento qui oggi sappiamo che non è una cometa ma è una galassia e che quello è un getto relativistico e se andiamo a guardare lì dove questo getto origina quello che vediamo è esattamente questa immagine qui questa è l'immagine che crediamo essere quella di un buco nero e subito dopo il giorno dopo questo è quello che la gran parte dei quotidiani in tutto il mondo ha annunciato come vedete è un'immagine che ha fatto il giro del mondo e soprattutto è stata una sorgente enorme dei social media quello che è interessante è che nel giro di una settimana è stato calcolato che circa 4,5 miliardi di persone hanno visto questa immagine questo significa che una buona percentuale del pianeta nel giro di una settimana ha visto tutto se voi pensate che ci sono delle zone del pianeta dove la gente non ha accesso ai media è veramente impressionante come una singola immagine abbia conquistato l'interesse di così tante persone bene quello che voglio spiegarvi nel tempo che rimane è come abbiamo fatto questo in pratica e come possiamo pensare di concludere che quello che abbiamo visto è un buco nero allora questo è M87 nell'ottico questo è M87 nel radio è molto più grande se vedete nel radio perché c'è una zona di particelle estremamente energetiche che emettono nel radio noi possiamo andare a fare uno zoom all'interno di questo oggetto e incominciare a vedere il getto relativistico e possiamo ancora andare più in dettaglio e ancora più in dettaglio infatti oggigiorno la gente ha studiato questo oggetto per decine di anni sappiamo tutte le proprietà di questi noduli sappiamo anche calcolare quanto velocemente si spostano perché possiamo vedere anno dopo anno la loro posizione e se volete avere un'idea di come di quanto più grande è la risoluzione che abbiamo ottenuto questa è l'immagine con tipiche observazioni prima di Evento Horation Telescope e questo è quello che siamo usciti a vedere quindi è veramente un puntino rispetto a quello che potevamo prima questa immagine che è quella che vi ho mostrato dovete tenere in mente che è un oggetto astronomico e che quindi è veramente grande il nostro intero sistema solare andrebbe e sarebbe molto largo all'interno di questa zona qui che spiegherò essere l'ombra e anche Voyager 1 che è il satellite che abbiamo lanciato più lontano da noi a malapena esce fuori da questa zona d'ombra quindi stiamo parlando di distanze astronomiche come si fanno queste osservazioni vi ho già spiegato che quello di cui avete bisogno è avere telescopio ogni telescopio avrà la possibilità di essere correlato con un altro telescopio e in questa maniera creeranno un'informazione in questo spazio che è lo spazio delle visibilità e sulla base di questa informazione qui è possibile costruire un'immagine all'inizio e questa immagine diventa sempre più chiara sempre più nitida con dei dettagli sempre più rifiniti man mano che riusciamo a riempire questo spazio qui e questo è possibile se appunto sfruttiamo la rotazione della terra quindi possiamo aumentare la lunghezza di queste tracce che crescono nel tempo e ottenere un'immagine sempre più nitida questa è una simulazione realistica date le sensitività del nostro strumento di come riempendo questo spazio man mano che la terra ruota possiamo avere un'immagine sempre più precisa sfortunatamente ci sono delle zone della terra in cui siamo al buio e quindi la rappresentazione di questo spazio qui non è mai completa e questo crea delle difficoltà a livello di passare da questa informazione osservativa a questa informazione che è quella dell'immagine la collaborazione ha cercato di evitare ogni influenza umana in questo processo che comunque richiede un intervento umano e sono state create quattro squadre diverse che in maniera indipendente hanno utilizzato gli stessi dati senza comunicarsi e poi dopo due settimane di lavoro hanno prodotto queste immagini qui queste sono le immagini le prime immagini grezze prodotte da queste quattro squadre ed è in questo momento che la nostra diciamo livello di eccitazione è aumentato perché queste immagini sono le stesse e tutte mostrano un anello e questo anello non è uniformemente illuminato c'è una zona al centro che è scura e questo era quello che le nostre simulazioni numeriche avevano predetto sarebbe stato visto quindi il fatto che i dati siano dicessero esattamente quello che ci aspettavamo era quello che ci ha veramente entusiasmato sono passati diversi mesi quelle prime grezze immagini sono state ripulite e queste quattro diverse squadre hanno preso un accordo su quello che è la realtà e questi sono il risultato delle immagini finali di quattro giorni di osservazione quello che potete osservare è che le immagini sono simili ma distinte d'accordo e questo è esattamente quello che ci si aspetta perché questa immagine è prodotta dalla luce che viene prodotta dalla materia che cade sul buco nero in maniera turbolenta e quindi ci sono delle fluttuazioni così come un cielo con delle nuvole ha delle fluttuazioni queste danno vita a delle immagini che sono simili ma distinte come si produce un'immagine da un punto di vista teorico come come ci convinciamo che quello che abbiamo visto è prodotto da un buco nero per questo dobbiamo fare della teoria e per fare della teoria ci sono tre passi fondamentali il primo è simulare cosa succede al plasma che cade sul buco nero questo si chiama simulazioni di magneto idrodinamica poi dobbiamo e se volete l'equivalente di calcolare come le nuvole nel cielo si formino o scompaiono e quindi studiare come certe concentrazioni di densità e temperatura danno vita a delle concentrazioni di materia la seconda parte è calcolare come queste distribuzioni emettono della luce e infine dobbiamo avere la possibilità di confrontare gli errori strumentali con le osservazioni per far questo abbiamo creato dei codici una serie di codici e queste sono le persone che veramente sono state responsabili per questo tipo di lavoro qui sono loro i veri diciamo meritevoli di tutta questa storia qui adesso il comportamento della luce vicino a un buco nero è estremamente bizzarro io posso usare questo puntatore laser perché so esattamente che la mia luce andrà a finire lì se lo punto in quella direzione però se fossi in un campo gravitazionale forte questo non sarebbe più possibile e se fossi in particolare vicino a un buco nero tutto potrebbe succedere anche che la mia luce vada a finire alle mie spalle per spiegarvi questo meglio immaginate di avere un buco nero e di avere un disco sottile che emette luce e di volerlo fotografare con un certo angolo di inchinazione i questa è una piastra fotografica quello che vedreste è una prima immagine diretta che è questa qui d'accordo? la parte del disco che è davanti a voi è quello che ci aspettiamo di vedere ma siccome la luce può propagarsi anche in linea curva vicino a un buco nero quello che possiamo vedere è anche la parte dietro il buco nero quello che in teoria non potremmo vedere perché c'è appunto il buco nero davanti e non solo possiamo anche vedere la parte del disco che è al di sotto cioè la parte che in teoria non potremmo vedere mai adesso se voi avete mai visto Interstellar d'accordo questa è l'immagine di Interstellar questo adesso riuscite a comprendere cos'è che state vedendo state vedendo un disco di accrescimento sottile e state vedendo la parte diretta la parte che sta dietro e che viene comunque vista e la parte che sta di sotto e che in teoria non potreste vedere ma che il buco nero ci consente di vedere adesso questa stessa immagine però l'aspetto in cui ci appare dipende dall'inclinazione sicché se lo guardate con zero inclinazione la guardate sia esattamente dall'alto quello che vedrete è un anello perfettamente simmetrico mentre se lo guardate di taglio vedrete che c'è un'ombra e poi c'è anche un'altra ombra che diventa chiara adesso che è questa qui qui sotto quindi la maniera in cui l'ombra si manifesta dipende dall'inclinazione noi siamo stati particolarmente fortunati che M87 sembra avere un'inclinazione in maniera tale che vediamo un'unica ombra e non più di un'ombra in realtà però quello che vi ho mostrato non è esattamente quello che ci si aspetta e questo perché il disco di accrescimento non è un disco sottile ma è un disco spesso e quindi quello che ci si aspetta di vedere è più qualcosa di questo genere qualcosa che è geometricamente spesso e otticamente sottile quindi la luce lo attraversa senza problemi è quello che potete apprezzare ancora una volta che l'apparizione di questo oggetto dipende dalla inclinazione se che potremo avere due ombre oppure potremo avere un'unica ombra se l'inclinazione è sufficientemente alta una cosa che vedremo sempre e a meno che non siamo esattamente in questo caso patologico di averlo a zero inclinazione è che c'è una parte più luminosa e una parte meno luminosa questo è semplicemente dovuto al fatto che c'è una parte che viene verso di noi questo oggetto sta ruotando il plasma sta ruotando a velocità vicine a quelle della luce e quindi c'è una parte che viene verso di noi e una parte che va verso di noi la parte che viene verso di noi è amplificata attraverso un fenomeno che si chiama Doppler beaming ed è appunto un fenomeno relativistico adesso vi mostro una tipica simulazione da super computer questo è l'accrescimento di un toro questo toro qui accresce perché c'è una instabilità una instabilità magneto-rotazionale viene chiamata questo che viene prodotto qui invece è un getto relativistico di plasma il campo magnetico è estremamente intenso questo sembra computer graphics sembra grafica generata da computer no no questa è la soluzione autoconsistente delle equazioni della magnetodinamica relativistica e ci consentono di fare cose di questo genere come vedete l'accrescimento la quantità di materia che cade nel buco nero non è costante varia in continuazione è un moto turbolento e quindi come se il rubinetto dell'acqua che va a finire dentro il buco nero non è costante ma ha dei tentennamenti questo vuol dire anche che la quantità di luce che viene prodotta non è costante ma è variabile adesso questa è l'inquinazione che noi pensiamo essere quella in cui osserviamo M87 e adesso passerò dalle simulazioni magnetodinamica alle simulazioni di trasporto radiativo ossia andiamo a vedere come la luce ci apparirebbe come noi vedremmo il M87 se avessimo degli occhi sensibili alle frequenze radio sembra un anello più o meno uniforme in realtà come vi ho spiegato è che siamo in un'inquinazione abbastanza fortunata che ci consente di vedere un'immagine molto semplice in realtà i telescopi non vedono quella quella è l'immagine sintetica a risoluzione infinita i telescopi quello che vedrebbero è qualcosa che è variabile così con una variabilità di un tempo scala di circa un giorno questa è l'immagine che abbiamo visto e come vedete è molto simile a quella che le simulazioni ci predicono adesso vi mostro anche come in realtà il getto è molto più grande di quello che viene rappresentato questo getto è enorme ha una lunghezza dell'ordine di kiloparsec e quindi è grande praticamente quanto la nostra stessa galassia per abbiamo quattro immagini prodotte dalle osservazioni dobbiamo produrre delle immagini sintetiche e quello che abbiamo fatto è fare tante simulazioni che vanno a coprire tutto il possibile spazio dei parametri e quindi abbiamo creato 400 scenari diversi giusto per darvi un'idea questo è un esempio di 400 scenari no una piccola parte di questi 400 scenari e come vedete ci sono delle situazioni in cui il plasma ruota in senso orario in senso anti-orario questo perché il buco nero ha uno spin co-rotante o contro-rotante in cui il campo magnetico è forte o piccolo e quindi la dimensione dell'immagine cambia insomma quello che abbiamo fatto è creare circa 60.000 immagini virtuali e abbiamo quattro immagini osservative e 60.000 immagini virtuali e a questo punto dobbiamo fare un confronto tra le osservazioni e il risultato delle simulazioni e per far questo si usano degli algoritmi di intelligenza artificiale sono algoritmi genetici o di vengono chiamati Markov Chain Monte Carlo che quello che fanno è trovarli il riscontro migliore se volete un'analogia immaginate di essere allo stadio e che allo stadio ci siano 60.000 persone avete un'immagine sfocata per giunta di una persona che potenzialmente è nello stadio e volete cercare questa persona a vedere se è presente quindi quello che fate è chiedete al vostro algoritmo di confrontare la vostra immagine di riferimento con le 60.000 che avete e quello che farà l'algoritmo sarà trovare le persone che più di altre assomigliano all'immagine che avete poi potete organizzare la vostra la vostra scelta in maniera tale da ottenere un riscontro ecco questo è un tipico esercizio di intelligenza artificiale che mostra che c'è molto artificiale e poca intelligenza perché chiaramente questa immagine qui non ha niente a che fare con l'immagine di riferimento però l'algoritmo l'ha pescata perché probabilmente trova una forte analogia tra i contorni un'altra cosa che ci insegna è che nessuna di queste immagini è quella giusta in realtà questo perché le nostre 60.000 immagini non sono le immagini della realtà sono immagini potenzialmente corrette però è anche possibile che anzi è molto probabile che non abbiamo contenuto conto di tutto che magari delle nostre assunzioni e approssimazioni sono insufficienti tuttavia a volte abbiamo avuto dei riscontri osservativi e teorici di questo genere qui sono impressionanti è difficile distinguere qual è la teoria e qual è l'osservazione quindi questo ci spinge a chiedere che sappiamo esattamente cosa produce questa immagine in realtà non è così questo perché come discutiamo nei nostri lavori questo buon match tra le osservazioni e i dati avviene troppo spesso ci sono troppi tipi di black hole diversi che danno la stessa bontà di immagine in particolare vedete ci sono tre immagini che da un punto di vista dell'algoritmo sono ugualmente buone ma si riferiscono a tre buchi neri completamente diversi questo è un buco nero rotante con lo spin che va fuori dalla lavagna questo è che viene verso di voi mentre questo è un black hole che non ruota affatto quindi questa degenerazione questa incapacità di distinguere un modello dall'altro è un bene ed è un male allo stesso tempo è un bene perché vuol dire che fondamentalmente anche se ci sbagliamo sicuramente siamo sicuri che si tratta di un buco nero è un male perché non sappiamo che tipo di buco nero è almeno non possiamo distinguere sulla base di queste immagini qui adesso come scienziato e in particolare come persona che ha lavorato per vent'anni in relatività generale il fatto che ci sia questo riscontro così buono tra la teoria di Einstein e le osservazioni potrebbe indurmi a credere che questa è la fine della storia abbiamo mostrato che Einstein ha ragione tuttavia come scienziato ho anche l'obbligo di sempre nutrire il dubbio perché quello che ho fatto è veramente il massimo che posso fare e quindi è necessario chiedermi se è giusto che un buco nero in un'altra teoria ci sono tante teorie che sono alternative a quelle di Einstein che producono o predicono dei buchi neri e quindi è giusto chiedersi se un buco nero in un'altra teoria produca la stessa cosa e quindi siamo altrettanto sicuri che non si tratti di qualcos'altro sia che non si tratti di un buco nero ma di qualcosa che è simile a un buco nero ma non lo è o che se è un buco nero è un buco nero non nella teoria di Einstein e questo è quello che abbiamo fatto abbiamo preso un buco nero che va alla moda che si chiama un buco nero dilatonico e abbiamo provato a fare esattamente la stessa analisi e a chiederci bene come appare questo buco nero questa mostra una simulazione in cui metto a confronto un buco nero di Kerr e un buco nero dilatonico in particolare siccome sono buchi neri diversi ho cercato di che abbiano almeno una proprietà in comune ed in particolare la posizione del termine del disco ossia quella che viene chiamata innermost stable circular orbit l'orbita circolare più interna e quindi voi potete guardare queste due simulazioni potete analizzarle e alla fine della storia potete fare delle immagini e quello che vedete da queste immagini è che questo è un buco nero all'Einstein e questo è un buco nero dilatonico i due buchi neri sono diversi così come vi aspettate perché sono teorie diverse però sono anche estremamente simili in particolare se chiedete a un algoritmo se sia possibile distinguerli o meno la conclusione che avete è che non è possibile distinguerli ed è per questo che nel mio titolo ho detto che questa è la prima immagine di un buco nero non ho detto che è la prima immagine di un buco nero di Kerr ossia di un buco nero di Einstein questa però è una limitazione che è legata alla qualità dei nostri dati non è una limitazione che verrà per sempre e man mano che miglioreremo la nostra capacità di fare queste osservazioni e quindi la capacità di distinguere dettagli fini potremo rispondere a questa domanda ossia è un buco nero di latonico o un buco nero di Einstein vorrei venire alle conclusioni perché vi ho tenuto ormai per un'ora e magari c'è qualche tempo per delle domande allora cosa che vi ho detto vi ho detto che Einstein ha proposto questa idea rivoluzionaria della gravità ha detto non c'è niente a che fare con una forza istantanea anzi quello che c'è è che ogni volta che c'è una massa questa produce una curvatura e la gravità altra non è che la manifestazione di questa curvatura le equazioni di questa di questa teoria portano delle predizioni abbastanza bizzarre come ad esempio quelle del buco nero e a volte incomprensibili neanche Einstein apprezzava o in realtà comprendeva il concetto di buco nero ma inevitabilmente queste predizioni anche questa volta si sono rivelate esatte questo esperimento IHT ha mostrato che i buchi neri supermassicci esistono al centro delle galassie questo è importante perché questa era un'assunzione magari un'assunzione ragionevole ma era un'assunzione adesso lo sappiamo con una certezza abbastanza elevata che al centro delle galassie inclusa la nostra c'è un buco nero è un buco nero supermassiccio con masse enormi e questi buchi neri sono diversi dai buchi neri che vediamo con le onde gravitazionali perché i buchi neri che vediamo con le onde gravitazionali sono molto più leggeri dell'ordine di decine di masse solari mentre qui ci sono buchi neri che hanno miliardi di masse solari quello che è eccitante e quindi che dovrebbe stimolare tutti i giovani in questa stanza è che siamo adesso in un'era in cui abbiamo due capacità osservative diverse complementari di vedere oggetti che per noi sono stati elusivi per molto anni IHT guarda buchi neri supermassicci LIGO vede buchi neri molto più leggeri di ordine delle masse solari IHT usa la luce i fotoni LIGO usa le onde gravitazionali sono due messaggeri completamente diversi eppure entrambi danno la stessa informazione perché le proprietà che LIGO e Virgo deducono sui buchi neri sono le stesse proprietà che deduciamo noi con IHT e questo è sorprendente perché c'è un oggetto che varia per otto ordini di grandezza e c'è un ostante rimane esattamente lo stesso noi non conosciamo nessun altro oggetto così semplice qualsiasi oggetto che cambia in dimensioni o in massa o in complessità di otto ordini di grandezza in genere assume delle proprietà diverse una meba e un albero che hanno un numero di celle estremamente diverso hanno anche una fisiologia completamente diversa nel caso di buchi neri non è così lo stesso oggetto ha le stesse proprietà indipendentemente dalla massa e quindi nel nostro futuro avremo la possibilità di esplorare quello che è in realtà appunto l'universo di Einstein un universo che è fatto di buchi neri di stelle di neutroni e di onde gravitazionali un universo estremamente fascinante che spero in futuro voi avrete la possibilità di conoscere ancora meglio grazie grazie per la affascinante talk immagino che ci siano delle domande il buco nero diventa sempre più grande certo ha lo stesso problema che abbiamo noi tende a mettere su peso ogni volta che cade qualcosa aumenta la sua massa e che cosa si ipotizza per l'universo il fatto che i buchi neri diventino l'imbuto in cui si riversa tutto se non fosse che il nostro universo si sta espandendo e quindi i buchi neri tendono anche ad allontanarsi e quindi non è detto che tutti i buchi neri alla fine finiscono dentro un unico grande buco nero in particolare il fatto che l'espansione stia accelerando potrebbe prevenire questa ipotesi però nel principio se c'è un buco nero lui cercherà di accrescere tutta la materia che gli è intorno fin tanto che questa materia però se la materia ha del momento angolare riesce a ruotare allora può sottrarsi immagini di questo immagini di trasformare il sole in un buco nero ok magicamente lo restringe in un chilometro e mezzo ha creato un buco nero per noi che siamo qui sulla terra non cambierebbe niente da un punto di vista gravitazionale noi ruoteremmo sulla stessa orbita perché gravitazionalmente abbiamo ancora un momento angolare per evitare di caderci dentro il momento in cui non avremmo più questo momento angolare e in genere lo perdiamo perché ci sono le maree e altri fenomeni dissipativi allora ci cadremo dentro allora in un libro in cui si spiega la scienza dietro al film di Interstellar il premio Nobel Kip Thorne afferma che un buco nero ha due due segreti due due incognite per comprendere più o meno teoricamente almeno le caratteristiche di un buco nero si dovrebbero conoscere basterebbe conoscere due caratteristiche che uno è il raggio dell'event horizon e l'altro è la velocità di rotazione del black hole e sono calcolabili queste due queste due informazioni in realtà sono tre la teoria dice che sono tre sono la massa che lei ha detto essere il raggio questa perché tra il raggio e la massa c'è un fattore 2 lo spin e anche la carica in genere si pensa che astrofisicamente la carica è sempre zero perché se ce n'è una netta questa viene compensata velocemente profondamente sono queste due masse e nel caso di M87 abbiamo misurato la massa è 6,5 miliardi di masse solari ma non siamo in grado di misurare lo spin infatti nelle nostre pubblicazioni non abbiamo dato nessuna stima dello spin e il problema è quello che le ho mostrato abbiamo una degenerazione nelle immagini detto questo se vogliamo andare oltre l'immagine e inserire informazioni addizionali che abbiamo dall'astrofisica che ci dicono ad esempio quanto è luminoso il getto allora possiamo escludere buchi neri non rotanti e in particolare possiamo anche dire che pensiamo che il buco nero abbia lo spin che va via da noi d'accordo quindi però sono informazioni addizionali che non vengono dall'immagine come mai è stato osservato un buco nero così diciamo abbastanza distante dal nostro sistema solare non conveniva forse concentrarsi su una regione magari all'interno della nostra a parte il super massiccio al centro della nostra galassia ma magari qualche altro buco nero che credo ne esisteranno all'interno della nostra galassia pensiamo che ce ne sono tantissime all'interno della nostra galassia il problema è quello che ho spiegato prima i buchi neri sono dannatamente piccoli quindi anche se lo mette vicino a noi nel senso che nella nostra galassia nel cielo sarebbe minuscolo la nostra unica speranza è beccare qualcosa di grande e sperare che sia grande ma non troppo lontano e alla fine della storia se riguarda quali sono i candidati non ce ne sono tantissimi uno era questo M87 l'altro il centro galattico il centro galattico è mille volte più piccolo in massa però è anche mille volte più vicino a noi e quindi le due si compensano e la dimensione di Sagittario A è confrontabile a quella di M87 e noi abbiamo fatto misure di Sagittario non le abbiamo ancora pubblicate perché l'analisi è molto più complessa la massa determina anche un tempo scala orbitale quindi se lei ha una nave spaziale vuole andare intorno a un buco nero se è grande ci mette più tempo banalmente questo vuol dire che la variazione della luce in un buco nero grande è lenta e l'immagine non cambia molto nel caso di M87 l'immagine ha queste variazioni nell'ordine di 24 ore nel caso del centro galattico stiamo parlando di una decina di minuti e quindi è come fare una foto di un soggetto che cambia ogni 10 minuti e lo volete integrare su 8 ore quello che avete è qualcosa di molto più complesso però se ha pazienza per la prossima primavera pensiamo di pubblicare anche quei risultati bellissimo talk visto il buco nero che dire ora dell'informazione che è entrata se sarà possibile vederla da qualche parte come le ho detto in questo momento non siamo neanche in grado di capire che tipo di buco nero è quindi andare a dedurre come l'informazione si trasmetta in linea di principio possono esserci degli oggetti che non sono dei buchi neri che sono molto simili ai buchi neri ma non sono dei buchi neri quindi non abbiamo evidenza che esista un orizzonte degli eventi quello che abbiamo prodotto è compatibile con l'idea di un orizzonte degli eventi ma non possiamo vedere l'orizzonte degli eventi quindi questioni di perdita di informazione saranno molto difficili da stabilire con questo tipo di osservazioni una cosa avevo visto che questa ricerca è stata possibile praticamente creando un telescopio grande come la Terra ci sono altri margini di miglioramento nei nostri strumenti per l'osservazione o questo diciamo un po' il limite che abbiamo che sarà difficile superare noi abbiamo questo vizio che non accettiamo i limiti come esseri umani in realtà ci sono molte maniere in cui possiamo migliorare la prima è abbastanza ovvia se mettiamo più telescopi riusciamo a guardare l'oggetto per più tempo semplicemente perché l'esposizione è più grande quindi questa è una prima una prima direzione la seconda è aumentare la frequenza di osservazione questo ci consente di avere una risoluzione ancora più grande se si ricorda la risoluzione va come la lunghezza d'onda e quindi la frequenza andando a lunghezza d'onda più piccole avremmo risoluzioni più piccole un'altra maniera per andare in avanti è usare lo spazio non usare non accontentarci di avere 6.000 km o 3.000 km di linea di base ma avere 15.000 km e questo è possibile se mandiamo dei satelliti quindi mandando dei satelliti possiamo fare interferometria nello spazio e in quel caso possiamo avere dei dettagli ancora più fini quindi sì ci sarà da fare ancora per molti anni è ipotizzabile la riconversione di un buco nero in una massa cioè è ipotizzabile almeno in linea teorica pensare ad un qualcosa che abbia una velocità addirittura superiore a quella della luce tale da riuscire a riuscire fuori dal campo gravitazionale del buco nero diciamo qualsiasi teoria le voglia invocare ha bisogno di una velocità massima adesso che sia la velocità della luce o di un'altra velocità poco importa fin tanto che c'è una velocità massima ci avrà un oggetto tale che la gravità impedirà di superare questa velocità massima però la teoria della realtà generale prevede che esistono anche dei buchi bianchi ossia degli oggetti che hanno proprietà esattamente speculari a quelle di un buco nero quindi sono degli oggetti che invece di accrescere massa la espellono queste sono delle cose che le equazioni consentono di fare così come la reversibilità nel tempo però non sempre quello che le equazioni prevedono in realtà hanno un riscontro nella realtà non c'è nessuna evidenza osservativa che i buchi bianchi esistano e se ci fosse sarebbe abbastanza semplice vederli quindi la risposta è pensiamo che sia difficile evitare un processo di questo genere ossia la formazione di un buco nero e la formazione di un orizzonte degli eventi ma non è escluso la teoria lo prevede chiaramente l'orizzonte degli eventi non possiamo vederlo ma supponendo che quello sia un buco nero di Kerr quindi cos'è quell'ombra che vedevamo di cui parlava prima esattamente in effetti ho saltato questo mi dia un attimo perché no ho un'animazione che spiega datamente questo concetto in inglese ma vi spiego in italiano allora quello che vediamo è l'ombra che è distinta dall'orizzonte degli eventi l'orizzonte degli eventi è per definizione non può essere fotografato perché la luce di lì non può venire per definizione come ho detto è la velocità di fuga quindi immaginiamo di avere un buco nero con queste dimensioni qua un orizzonte e che questo buco nero sia davanti ad una sorgente di luce questa qui questa sorgente di luce manderà dei fotoni ci saranno dei fotoni che vanno a finire esattamente dentro l'orizzonte degli eventi e questi vengono assorbiti direttamente poi ci sono dei fotoni che non vanno a finire direttamente ma ci vanno a finire vicino e comunque alla fine questi fotoni verranno assorbiti c'è un limite che è chiamato il limite dell'orbita circolare dei fotoni tale che se sta al di fuori di questo limite non cade dentro il buco nero mentre se al di sotto ci cade e questo è mostrato questi fotoni questi sono all'interno e alla fine vengono anche se sono al di fuori dell'orizzonte degli eventi alla fine ci cascano dentro quindi può pensare di proiettare all'infinito questa questa zona qui di esclusione e questa rappresenta l'ombra per essere precisi matematicamente questo l'orizzonte degli eventi è due volte la massa la l'orbita circolare del fotone è tre volte la massa e la proiezione dell'ombra è radice di 27 che è circa 5 quindi la dimensione dell'ombra che è quella che vediamo noi è circa un fattore 3 più grande dell'orizzonte degli eventi quindi noi non vediamo l'orizzonte degli eventi vediamo l'evidenza dell'orizzonte degli eventi un'altra cosa che può apprezzare da questo cartone è che mentre la luce che viene prodotta qui ci cade o esce però se io produco la luce qui davanti d'accordo quindi tra il buco nero e l'infinito beh io non ho nessun problema ad andare in questa direzione questo vuol dire che l'ombra non è esattamente scura non è perfettamente scura ma è soltanto una regione in cui c'è un deficit di luce ed è per questo che quello che vediamo noi non è esattamente scuro ma è una regione che è dieci volte più scura del resto altre domande nessuno che chiede il tempo come cambia il tempo quindi posto che una stella di neutroni è composta sostanzialmente da neutroni sia dal nucleo alla superficie una volta che aumenta la sua massa al punto di diventare un buco nero il buco nero la singolarità da che cosa è costituita a saperlo vedete questo è il problema con l'articità generale che dice che c'è un buco nero e c'è un orizzonte questo orizzonte è già problematico di sé però uno può accettarlo in particolare se l'evidenza è che esiste esiste però la singolarità questa non può essere accettata e la singolarità è l'idea che lei prende qualsiasi oggetto che formava era una stella o una stella di neutroni e che poi alla fine è stata concentrata tutta in un punto un punto di dimensione infinitesima e questo matematicamente si può fare non c'è nessun problema è un limite poi dal punto di vista fisico è inaccettabile non possiamo pensare che qualcosa finisca in un oggetto di dimensione zero quello che noi crediamo essere più ragionevole è che in realtà questo punto non è un punto ma è un puntone è un qualcosa di più di più grande e che ha bene dimensioni della lunghezza di Planck che è estremamente piccola ma non è nulla e questa differenza è fondamentale quindi tutto quello che dobbiamo fare è imparare a studiare la gravità su scale della lunghezza di Planck questo tentativo va avanti da 40 anni si chiama quantum gravity o gravità quantistica e ancora non siamo in grado di formulare una teoria della gravità che sia compatibile e che sia quindi funzionante a scale così piccole dove la meccanica quantistica anche è importante quindi in questo momento dobbiamo accettare l'idea che c'è un buco nero e al suo centro c'è qualcosa e questo qualcosa è una singolarità che in qualche maniera riusciremo a spiegare nel futuro ok avevo sentito puoi parlare di una teoria secondo la quale la singolarità potrebbe essere costituita da un disco bidimensionale un disco bidimensionale ok mi ricordo che me l'aveva parlato il mio professore di fisica al superiore non so poi da dove si fosse informato lui nella teoria di relatività generale c'è un'altra singolarità però non è un disco è un anello si chiama ring singolare io singolarità all'anello questa è anche una proprietà delle equazioni di ansia quindi se avete se lei ha un buco nero ruotante invece che essere un punto c'è due singolarità un punto e poi anche un anello e questo è una conseguenza del fatto che c'è una certa rotazione ora penso che possiamo concludere questa interessantissima conferenza ringrazio ancora il professor Rezzola per la fantastica e vi ricordo appunto che tra una settimana al centro San Gaetano ci sarà una nuova puntata di queste nuove avventure che ogni giorno scopriamo nel campo della fisica dell'astronomia grazie a tutti arrivederci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti